Ciao a tutti, sono Beeluf del canale Beeluf Film & Series e bentornati in questo nuovo video della serie Beeluf Consiglia. Il Beeluf Consiglia di oggi in realtà sono ben due, The Sinner e Unbelievable. Due serie importanti, molto forte, dal genere drama, thriller, crime, che hanno in comune il disagio sociale delle protagoniste, ma anche la loro assoluzione che in entrambi i casi, senza fare troppi spoiler, le porterà ad una giustizia più che meritata, visto i fatti accaduti che le sono successi. L'impatto però che hanno avuto di me e dopo la visione è stato completamente diverso, perché mentre The Sinner è una storia inventata e quindi conclusa la serie mi sono fatto la mia idea, le mie opinioni, è pace. Unbelievable è invece tratta da avvenimenti realmente accaduti e quindi il livello di coinvolgimento che abbiamo è molto molto più forte e se vogliamo anche più triste, visto il tema trattato, che poi spiegherò. Ma parliamo della trama. The Sinner ha come protagonisti Cora, Jessica Beel, e il detective Harry Ambrose, che è Bill Pullman. Cora all'apparenza è una donna tranquilla sposata con un figlio, ma un bel giorno durante una gita al lago impazzisce e commette un omicidio spaventoso e ferato verso un ragazzo che nemmeno conosce. Lei stessa non capisce il suo gesto e decide di consegnarsi spontaneamente alla polizia e di dichiararsi colpevole. Finirà quindi in carcere e qua entra in gioco il detective Harry Ambrose, che dopo un colloquio con Cora sospetta che ci sia qualcosa che non quadra e decide di indagare sul passato della ragazza. Da qua in poi la serie è tutto un alternarsi di emozioni e le indagini di Ambrose andranno a scavare nel passato e nella mente di Cora, della protagonista. Ignara lei stessa di quello che potrebbe ricordare e soprattutto ignara delle motivazioni e dei suoi comportamenti che l'hanno portata a compiere un crimine del genere. Serie incredibile insomma e vi assicuro che farete fatica quando finisce una puntata a non vedere quella dopo. Jessica Beel e Bill Pullman sono bravissimi, sia nelle scene in solitaria ma soprattutto in quelle di copia trasmettono veramente una tensione e ce n'è una soprattutto che quando i ricordi di Cora pian piano tornano a galla assistiamo ad una scena veramente tremenda. In Unbelievable abbiamo invece come protagonista principale Marie, una ragazza appena adolescente vittima di uno stupro che poi per motivi che non vi voglio spoilerare sarà costretta a dire di non aver subito. Immaginate ora quali sono i sentimenti di Marie e in quale disagio possa trovarsi la ragazza con le persone che conosce. Dopo aver dovuto ritrattare una cosa del genere e nella serie traspare tutta la sua insicurezza e tutta quanta la sua fragilità. Infatti nelle prime puntate il disagio che percepiamo è veramente pesante e ci si domanda ma com'è possibile che possono accadere cose del genere e invece sembra proprio che succedano. In suo aiuto però questa volta arriveranno non due, non uno ma ben due detective, due donne, il detective Grace che è Toni Collette, famosissima attrice e il detective Karen interpretata da Merit Weber che abbiamo visto anche in storia di matrimonio, il film quello sempre su Netflix con la Scarlett Johansson e Adam Driver. Le due detective stavano ciascuna seguendo un caso di stupro e scopriranno delle somiglianze fra i loro casi compreso quello di Marie perché anche quello di Marie verrà inglobato nei casi che seguono le due detective. Altro non voglio dirvi perché il bello della serie è proprio vedere il percorso di queste due detective e di quanta dedizione ci vuole per risolvere casi del genere. Unbelievable e The Sinner si possono definire entrambi delle mini serie visto che hanno otto puntate da 40 minuti circa ciascuna e sembrano più una specie di film allungato piuttosto che una serie vera e propria. Sono tutte e due uniche, non ce ne sta una migliore dell'altra, sono due serie molto mature che fanno riflettere lo spettatore e che secondo me hanno come line motif, come tema principale, l'indignazione per la violenza sulle donne. Non una roba leggerissima insomma ma non spaventatevi perché nonostante il tema trattato entrambe non sono né lente né pesanti, hanno uno stile americano, le puntate sono godibilissime, sono veloci, incalzanti. Tutto ciò è anche dovuto come detto prima al basso numero di episodi che quindi non permette pause o tempi morti nelle serie e somigliano proprio a un minifilm. Penso di aver detto tutto, vi consiglio ancora una volta di dare un'occhiata sia a The Sinner che ad Unbelievable, le trovate tutte e due sul catalogo di Netflix, unica parentesi per The Sinner. Allora The Sinner ha anche una seconda serie, la prima si chiama Cora e la seconda si chiama Julian, quella di cui ho parlato io è Cora, però su Netflix imbrogliano le due perché Julian è messa prima di Cora. L'ordine giusto da vedere è proprio prima Cora e poi la serie di Julian, quindi non fatevi imbrogliare dalla tendina perché a me è successo così, ho visto prima una dell'altra per poi scoprire che dovevo vedere prima Cora. Adesso ho detto veramente tutto, come al solito vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio e ciao a tutti da Belus. Ciao, al prossimo video!